Si apre una settimana di tempo instabile in Granda. Intanto le grandinate dei giorni scorsi hanno provocato ingenti danni all'agricoltura. L'anno scolastico sta volgendo al termine tra lezioni a distanza e d'incertezza sul futuro. Mercoledì da Savigliano partirà un flash mob. A Saluzzo sono stati raccolti 20 quintali di prodotti per aiutare le persone più fragili colpite dalla crisi economica innescata dal Covid. Ben ritrovati cari telespettatori di Telegram ad un nuovo appuntamento con l'informazione della nostra emittente. Apriamo questa edizione del telegiornale partendo dai dati dell'unità di crisi della regione Piemonte che come sempre ci danno il quadro della situazione coronavirus sul territorio. Allora andiamo a leggere insieme con l'aiuto della grafica partendo come sempre dai decessi che si riferiscono alla giornata di oggi ovviamente 8 giugno. 13 nuovi decessi a livello regionale, 3954 quelli in totale. In provincia di Cuneo i decessi totali sono 388, nessun nuovo decesso nella giornata di oggi dato dunque positivo. Veniamo ai contagi, 14 quelli nuovi in Piemonte dove il totale è di 30.869, 2 sono i nuovi contagi in provincia di Cuneo dove invece il totale è di 2.803. E chiudiamo come sempre con i guariti, in Piemonte sono in totale 20.653, 120 quelli nuovi, 5 invece in provincia di Cuneo dove il totale è di 2.039. Ed ora cambiamo argomento, parliamo del maltempo che come sapete in questi giorni sta imperversando anche sulla nostra provincia. Dopo i temporali e le grandinate dei giorni scorsi anche questa nuova settimana si caratterizzerà per una forte instabilità. L'estate che si è affacciata a Beffarda nel periodo del lockdown con giornate di sole limpido e temperature elevate adesso invece timida e stenta a manifestarsi. Dopo una domenica caratterizzata da temporali e grandinate alternate a sprazzi di sole anche la nuova settimana è partita a pressa poco allo stesso modo. Un andazzo, a quanto dicono le previsioni, destinato a proseguire anche per i prossimi giorni. Oggi, lunedì 8 giugno, la granda si è svegliata sotto un cielo ancora nuvoloso che ha alternato qualche rara schiarita a forti rovesci temporaleschi. Una instabilità che dovrebbe proseguire anche nella giornata di mercoledì e per il resto della settimana caratterizzata da cielo nuvoloso e da quotidiane precipitazioni, spesso anche intense ed in grado di scaricare grandi quantità di pioggia in breve tempo con possibilità di nubi fragi e grandinate e forte vento. Insomma, l'estate non ha fretta di arrivare ed anche le temperature che oscillano tra i 20 e i 24 gradi lo dimostrano. Ecco, restiamo in tema perché le forti grandinate dei giorni scorsi hanno provocato ingenti danni alle coltivazioni, all'agricoltura, anche sul nostro territorio. Noi proprio a questo aspetto siamo andati ad approfondire con Coldiretti Cuneo ed in particolare con un suo tecnico, Cesare Gallesi. Ascoltiamolo. A quanto ammontano questi danni e quali sono le zone che sono state maggiormente colpite? Allora, per quanto riguarda la grandina è sempre difficile stimare velocemente dei danni. Noi abbiamo fatto delle prime valutazioni per quantificare un po' la portata di quello che era il danno. Dalla scorsa settimana siamo soggetti ad un'ondata temporalesca che ha fatto prima danno con alcune piccole grandinate a macchia di leopardo un po' su tutta la provincia. Poi dei danni più seri si sono presentati la scorsa settimana nella zona che va tra Fossano e Busca e poi ancora tra la scorsa settimana e ieri alcuni temporali nel fine settimana hanno fatto delle piccole grandinate localizzate sul territorio della nostra provincia mentre ieri la grandinata si è focalizzata nel Monregalese, in particolare su Villanova Mondovì dove ci sono degli impianti frutticoli. Non ultimo, poco fa, proprio mentre stavo venendo qua solo in ufficio perché c'è il temporale ma non ultimo, oggi pomeriggio tra Saluzzo e Savigliano e Lagnasco c'è stato un altro evento grandinigeno. In quest'area più mitigato dal fatto che ci sono molte reti antigrandine però anche lì un'altra grandinata. Quindi i danni sono importanti? Sì, i danni sono importanti. Posso fare un esempio ma non è l'unico. Quella di ieri, la più recente delle grandinate grandi a Villanova Mondovì ha fatto danni che vanno dall'80 al 90% sulla frutta. sugli ortaggi il danno molto probabilmente è rasente al 100% ovunque e tra i cereali se la cava un po' meglio il mais perché è piccolino e probabilmente ha ancora la capacità generalmente dovrebbe ancora riprendersi un po' per gli altri cereali il danno è anche su quelle stime, dal 70 al 100%. Queste ondate temporalesche, questi periodi temporaleschi lunghi danno un po' il sintomo di una tropicalizzazione del tempo. Sembrano un po' le fasi monsoniche che ci sono in altre parti del pianeta però cominciano ad arrivare i temporali, oggi di qua, domani di là e non è più il temporale che si vedeva in estate. Certo, questi cambiamenti climatici che come ha detto lei ci sono sempre più spesso però compromettono molte volte le coltivazioni soprattutto in questa zona ecco come pensate di prevenire se ci sono delle soluzioni che state vagliando? Diciamo che le aziende da sempre hanno una soluzione che è quella di ricorrere alla difesa passiva ovvero ricorrere alla sicurazione che però è diventata molto complicata negli ultimi anni per cui ci si sta organizzando sempre di più per dei sistemi di difesa attiva e sistemi di difesa attiva che attraverso le reti antigrandine cercano di proteggere il racconto questo è possibile farlo sulle colture orticole, è possibile farlo sulle colture frutticole e meno facile farlo sulle colture estensive non perché sia difficile costruire un impianto quanto non c'è la remuneratività e questo è il secondo problema ecco negli ultimi anni c'è stata poca remuneratività per cui anche le aziende sono a corto di liquidità e tendono a fare meno investimenti quando sarebbe necessario soprattutto per la frutta avere il più possibile coperto da reti antigrandi ed ora parliamo di sanità nei giorni scorsi presso l'ospedale Santissima annunziata di Savigliano è stato effettuato un prelievo multiorgano e multitessuto su un paziente deceduto in rianimazione dove era stato ricoverato qualche giorno prima per una patologia molto grave effettuata la diagnosi di morte encefalica con criteri neurologici, clinici e strumentali è trascorso anche il periodo d'osservazione previsto vista anche la volontà positiva alla donazione e l'idoneità del donatore il paziente è stato trasferito in sala operatoria dove è stato effettuato il prelievo sentiamo la necessità di ringraziare in primis il donatore e la sua famiglia per la sensibilità, la solidarietà e la generosità dimostrate in un momento così doloroso ed emotivamente coinvolgente dichiarano dal coordinamento ospedaliero per l'attività dei prelievi di organi e tessuti un ringraziamento che va esteso a tutto il personale medici, infermieri, os, tecnici di elettroencefalografia tecnici di laboratorio e a tutto il personale tecnico di supporto questo il ringraziamento e ora cambiamo argomento perché in questo periodo l'attenzione è tutta rivolta al mondo della scuola mondo che come saprete nelle scorse settimane, negli scorsi mesi è in qualche modo dovuto reinventarsi tra didattica a distanza e lezioni virtuali a Savigliano è nato un movimento che si chiama Andremo Tutti a Scuola e questo movimento per il prossimo mercoledì 10 giugno ha organizzato un flash mob e allora nel prossimo servizio andiamo a scoprire per quale motivo A Savigliano è nato un gruppo che si chiama Andremo Tutti a Scuola che per mercoledì 10 giugno ha organizzato un flash mob allora come è nata questa iniziativa e qual è la ragione della vostra protesta? Questa iniziativa è nata diciamo in questi giorni partendo dallo spunto che il 10 in Piemonte è l'ultimo giorno di scuola tra l'altro un giorno in cui molti anzi direi tutti gli studenti e gli alunni purtroppo i bambini non potranno trovarsi anche solo per salutarsi l'iniziativa nasce da un problema il problema che abbiamo vissuto tutti in questi due mesi e mezzo, tre mesi ovvero dal momento in cui di fatto le scuole sono state sospese e come padre di un bambino di quasi 10 anni al quarto anno delle scuole elementari ho dovuto affrontare i problemi che tutti hanno dovuto affrontare diciamo dal lato genitori e che hanno problemi che sono coincisi col fatto che di fatto i bambini non sono più potuti andare a scuola hanno dovuto affrontare problemi molto grossi a livello di avanzamento del loro processo educativo Sarà un flash mob ovviamente pacifico voi avete invitato a esporre gli zaini ho invitato a esporre diciamo gli zainetti con i quali i bambini vanno e i ragazzi ovviamente perché l'iniziativa si rivolge a tutti vanno a scuola l'idea è quella di appendere fuori dalle case su ringhiere, balconi, dove possibile gli zainetti in una sorta di invito e allo stesso tempo buon auspicio per un rientro a scuola a settembre tutti in presenza poi ovviamente a preoccupare e anche poi la ripartenza della scuola quando sarà al momento a settembre assolutamente il problema è proprio quello nel senso che ovviamente dovranno essere garantite noi siamo ovviamente assolutamente attenti a tutte le questioni di sicurezza d'altro canto pensiamo che non si possa più assolutamente rimandare un discorso di rientro in presenza di bambini, ragazzi e ragazze perché semplicemente non può più essere prorogato noi pensiamo che sia assolutamente importante rientrare perché l'ambiente domestico e i genitori non possono assolutamente sostituirsi all'ambiente scolastico e agli insegnanti che sono il fulcro della scuola e ovviamente a questo si collega tutto il discorso anche della socialità tra i bambini che è fondamentale quindi l'idea di fare questo flash mob ecco in chiusura una battuta flash il movimento e anche il flash mob nascono a Savigliano ma ovviamente non si rivolgono solo al territorio saviglianese assolutamente no si rivolgono il movimento si rivolge volendo a tutta Italia noi pensiamo che più siamo e meglio è non vuole essere oltretutto un movimento che mira a unire esclusivamente i genitori ma vuole rivolgersi anche agli insegnanti che in questo frangente sono ovviamente stati chiamati in causa affrontare anche una situazione di grande emergenza quindi non vuole assolutamente creare una situazione divisiva ma di unione verso un unico obiettivo che è il rientro a scuola a settembre e parliamo ancora di scuola presentando un'iniziativa lanciata dalla fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo un concorso indirizzato a tutti gli studenti di ogni ordine grado della provincia di Cuneo che sono invitati a raccontare in forme diverse quale scuola vorrebbero dopo l'emergenza coronavirus l'emergenza sanitaria ha trasformato in questi ultimi mesi il mondo della scuola e ha portato insegnanti e studenti a sperimentare un modo diverso di fare lezione condividere informazioni e vivere i rapporti con i compagni di classe e i colleghi a partire da questa esperienza la fondazione CRC vuole immaginare la scuola del futuro e tracciare nuove prospettive insieme agli studenti della provincia di Cuneo di ogni ordine e grado di scuola da quella dell'infanzia fino agli istituti superiori di secondo grado con questo obiettivo la fondazione promuove il concorso la scuola che vorrei attraverso cui gli alunni sono invitati a raccontare con diverse modalità espressive quale scuola si immaginano riaprirà nei prossimi mesi dopo la chiusura dovuta al coronavirus a partire dai loro bisogni dalle loro aspettative e dai loro sogni un'occasione nuova per raccogliere suggestioni e creare opportunità di confronto e dialogo coinvolgendo in prima persona gli studenti nell'immaginare la scuola che li vedrà protagonisti al rientro tre sono le modalità previste per partecipare al concorso un disegno per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria un testo per quelli della scuola secondaria di primo grado un video per quelli della scuola secondaria di secondo grado per partecipare al concorso che scade il 31 luglio è possibile inviare un elaborato per ogni studente insieme alla documentazione richiesta attraverso la piattaforma dedicata disponibile sul sito www.fondazionecrc.it su cui è pubblicato il bando in paglio buoni per libri o dispositivi informatici per gli studenti e per le scuole fino a 250 euro per i primi classificati l'esito del concorso sarà reso noto a settembre la scuola è uno degli ambiti strategici per la ripartenza del nostro paese ed è da sempre uno dei settori sui quali si concentra l'attività della fondazione commenta Gian Domenico Genta presidente della fondazione CRC sono sicuro che da questa iniziativa potranno emergere suggerimenti preziosi anche per la programmazione futura del nostro ente e a proposito sempre di fondazione CRC nella riunione di oggi lunedì 8 giugno sono stati nominati quattro nuovi componenti del consiglio generale in sostituzione di quelli nominati in consiglio d'amministrazione nello scorso mese di aprile si tratta di Mariano Costamagna disegnato dal comune di Carasco in sostituzione di Francesco Cappello Graziano Lingua disegnato dal comune di Cuneo in sostituzione di Paolo Merlo Maurizio Risso disegnato invece dal comune di Caraglio in sostituzione di Enrico Collida Mirco Spinardi designato dal comune di Farigliano e subentra Davide Merlino per completare la composizione del consiglio generale rimangono ancora da nominare i candidati designati dal comune di Alba e dal comune di Mondovì ed ora ci spostiamo a Saluzzo perché come saprete la pandemia ha innescato sì quella che è stata ed è ancora un'emergenza sanitaria ma ha innescato purtroppo anche un'altra emergenza di carattere economico per venire incontro alle fasce più deboli della popolazione che sono state proprio morse nel profondo da questa crisi sabato scorso nella città del Marchesato è stata organizzata una colletta alimentare straordinaria un'azione di solidarietà verso le fasce più deboli della popolazione già duramente provate dalla crisi economica innescata dal coronavirus sabato scorso comune di Saluzzo consorzio Monviso Solidale Caritas di Saluzzo e Papa Giovanni XXIII hanno invitato i saluzzesi a donare generi alimentari di prima necessità in una colletta alimentare straordinaria colletta grazie a cui sono state riempite 152 cassette per un totale di circa 20 quintali di prodotti raccolti questa raccolta alimentare straordinaria organizzata dal comune insieme alla Caritas e alla Papa Giovanni è per noi di Caritas particolarmente importante perché tutti i prodotti che i saluzzesi oggi doneranno andranno al nostro emporio che dall'inizio della pandemia sta seguendo insieme ai servizi sociali le famiglie più in difficoltà in queste difficili settimane abbiamo visto purtroppo un aumento di persone che vengono ai nostri servizi sicuramente la donazione di oggi saprà impegnarci ancora di più nell'affrontare questo momento difficile guardando a una ripartenza realmente per tutti il mondo del volontariato il mondo delle istituzioni si è raccolto intorno a questa iniziativa che ci permette di completare le tante azioni che abbiamo realizzato a favore della popolazione saluzese colpita dall'emergenza Covid oltre ai buoni alimentari utilizzabili anche per genere di prima necessità insieme alla Caritas Saluzzo e all'associazione Papa Giovanni con tanti gruppi di volontariato stiamo facendo una colletta alimentare straordinaria che poi verrà distribuita nell'emporio solidale cittadino grazie agli operatori Caritas e insieme all'associazione Papa Giovanni al consorzio Monviso Solidale che gestisce i servizi sociali per conto del Comune di Saluzzo sarà anche portato nelle case dei saluzesi in difficoltà penso che sia un ulteriore gesto che dimostra l'affiatamento che c'è tra istituzioni e mondo del volontariato la capacità di fare squadra di fare sistema soprattutto nei momenti difficili a Saluzzo si può proprio dire che nessuno resta indietro credo che sia importante anche per la fondazione Casa del Spam di Saluzzo essere qui oggi il momento che stiamo vivendo è sotto gli occhi di tutti l'essere vicino alla gente che in queste settimane in questi giorni soffre quella che è stata questa crisi inaspettata credo che sia un segno di attenzione che rientra pieno nei compiti della fondazione la fondazione è sempre stata vicino al comune agli enti del volontariato quando si sono impegnati in questo tipo di attività e credo che in questo momento cosa è difficile proprio il nostro sostegno deve essere unico se è bastato un virus a fermare il mondo possiamo noi essere tutti insieme capaci di dare una risposta unica e convinta per chi ha più bisogno e ci spostiamo a Bra dove riprendono progressivamente i servizi al pubblico dell'informa giovani servizi che ovviamente erano stati sospesi durante le prime fasi dell'emergenza covid lo sportello dell'informa giovani situato al piano terra di Parazzo Matis è ora accessibile telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 negli stessi orari ma soltanto previo appuntamento concordato con un operatore per via telefonica oppure mediante mail a informagiovani chiocciolacomune.bra.cuneo.it sarà possibile recarsi fisicamente nell'ufficio per ottenere ovviamente informazioni sul lavoro sulla scuola oppure sulla formazione oppure altrimenti anche un aiuto per quanto riguarda la stesura del proprio curriculum ed ora ci colleghiamo con la nostra collega Zahira Mureddu per scoprire quali sono le ultime novità dal territorio mauregalese a te Zahira Buonasera Matteo buonasera ai telespettatori il collegamento da Mondovì si apre con una notizia però positiva collegata sempre alla situazione coronavirus ed in particolare con uno studio unico covid a livello nazionale sulla plasma proprio dall'ospedale di Mondovì grazie al refrigeratore che è stato donato dall'associazione ASSO alla struttura sanitaria monregalese l'obiettivo ovviamente è quello di perfezionare quelli che sono gli studi sulla possibilità di contrastare e trovare una linea di contrasto al coronavirus che non sia quella poi del ricovero ospedaliero nel fine settimana ci sono state alcune novità nei parchi ed in particolare sono state emesse 40 multe ai danni di altrettanti proprietari di cani che non hanno rispettato il divieto di lasciare liberi i propri cani al guinzaglio dal parco in questo caso le Alpi Marittime in particolare fanno sapere che si tratta di una regola che c'era anche prima dell'emergenza coronavirus non riguarda l'isolamento sociale ma la concessione di poter portare gli animali al parco è stata fatta proprio dopo numerose richieste solamente per venire incontro ai turisti ma devono rispettare ovviamente l'ecosistema in cui si trovano e quindi limitare il più possibile che ci sia l'interferenza degli animali e dei nostri amici a quattro zampe nel passaggio durante le gite in territori appunto ancora riserva naturale per quanto riguarda la situazione contagi va in netto miglioramento come in tutte le altre zone del territorio ormai anche quei comuni che avevano registrato dei picchi nel corso di 4-5 settimane fa sono arrivati ad essere covid free questa è più o meno la situazione sul territorio monregalese la linea può tornare allo studio e chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale con una notizia di sport in particolare di pallavolo maschile di serie A2 il mercato del VBC Synergy Mondo V prosegue con un importante colpo infatti è stato ingaggiato il centrale Roberto Festi Trentino adottato da Viterbo Festi ha solo 26 anni ma è già un veterano della categoria in cui gioca pensate dal 2013 quell'anno lo scelse per il debutto il Corigliano Calabro poi per lui avvennero esperienze a Sora Spoleto e in Tuscania in A2 l'anno scorso invece è vestito la maglia di Brescia sempre in serie cadetta e per un nuovo acquisto però ci sono in casa due AD salutano infatti gli opposti Dulkev e Stefano Bartoli bene non ci sono altre notizie dalla nostra redazione io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con i programmi della nostra emittente arrivederci e vi auguro un buon proseguimento